La saga di Moro inizia subito dopo gli eventi del film Dragon Ball Super Broly, con Goku e Vegeta intenti ad allenarsi e a parlare del più e del meno, tra cui il fatto che, a seguito del torneo del potere, Goku non è mai riuscito ad attivare l'ultraistinto, nemmeno per sbaglio, ma qui i due Saiyan vengono interrotti da Bulma, che chiede il loro aiuto, ma Jin Buu sta venendo rapito. Goku si teletrasporta quindi sul posto seguito in volo da Vegeta, ma uno dei rapitori, sentendo Mr. Satan rivolgersi a quei due, proprio come quei Goku e Vegeta, stordisce i due Saiyan, che al loro risveglio scoprono la verità. Goku, Vegeta e Jin Buu sono stati rapiti dalla pattuglia galattica, e ora si trovano dunque nel quartier generale, con Jaco e con Merus, che procedono a spiegare la situazione. Il più pericoloso criminale mai esistito è scappato dalla prigione galattica, e non potendo ucciderlo hanno bisogno dell'unico in grado di sconfiggerlo, il grande Kaioshin, che si trova ancora nel corpo di Majin Buu. Dieci milioni di anni fa, ovvero circa cinque milioni di anni prima dello scontro con Kid Buu da parte dei Kaioshin, ecco che il grande Kaioshin riuscì infatti a sconfiggere questo essere dotato di fenomenali poteri cosmici in un minuscolo corpo da capra. Il problema è che, come sempre, Majin Buu ragazzi sta dormendo al momento, ed è impossibile quindi risvegliare il Kaioshin. Di conseguenza Goku e Vegeta decidono di aiutare la pattuglia galattica, localizzando Moro su Neonamek, e Goku rimane sconvolto dal chi è emanato dallo stregone. Vegeta, vedendo lo sguardo di Goku, prova quindi anche lui a localizzare l'avversario, ma viene fermato. Il suo chi non è potente, ma contiene il chi di più e più esseri viventi, e non finisce qui, perché sempre, secondo le parole di Goku, Moro sa di essere stato localizzato. I due Saiyan si teletrasportano quindi su Neonamek, iniziando subito lo scontro con l'avversario, perché, sì, Giacomo e Merus si sono dimenticati di dir loro di non affrontarlo, almeno sfruttando attacchi o potenziamenti energetici, cosa che Goku e Vegeta fanno fin dai albori della loro storia, praticamente. E infatti, nonostante il salvataggio dei Neonamekiani, lo scontro non porta a nulla di buono. Anzi, dopo un primo confronto verbale, nel quale Moro rivela di star cercando le sfere del drago per poter far tornare tutta la sua magia, il primo a tuffarsi in battaglia è proprio Vegeta. Il Saiyan arriva qui a usare persino il Super Saiyan God, in questa prima fase, date le abilità dell'avversario che, da canto suo, usa strani attacchi mai visti prima. Magia vera e propria, che porta presto Vegeta a sbloccare anche il Super Saiyan Blue Evolution, finalmente anche nel manga, ma è tutto inutile. Moro crea infatti un enorme attacco energetico, la cui energia proviene però dalla vita del pianeta e da tutte le creature che lo abitano in questo momento, e infatti lo stregone prende tale energia e la mangia, potenziandosi. Vegeta cerca inutilmente di trasformarsi così in Super Saiyan, ma non ci riesce. Moro ha assorbito qualsiasi forma di energia nei dintorni, e perciò anche Goku decide di fiondarsi in battaglia in forma base, senza poter nulla, tanto che i due vengono prosciugati della loro energia e lasciati privi di sensi a terra. Qui Moro inizia così la ricerca delle sfere del drago insieme a Cranberry, altro evaso, e passano tre giorni prima del risveglio di Goku e Vegeta ancora impotenti. Moro però a questo punto ha già trovato sei sfere del drago, e i due non possono stare con le mani in mano, mentre abbiamo un bel dialogo anche tra Vegeta e Mori, raga, con il Saiyan che riflette sulle sue azioni in passato e con Mori che risponde dicendo lui che i Nameciani non servano rancore, ma che non dimenticano nemmeno così tanto facilmente. E questo discorso sarà fondamentale per i futuri eventi durante la prossima saga, la saga di Granola. Goku e Vegeta raggiungono così Moro, ma la navicella sulla quale lo stregone sta viaggiando viene subito abbattuta da Jaco e Merus, che portano con loro proprio Majin Buu, il quale alla vista del nemico si arrabbia e non poco iniziando uno scontro che porta prima Majin Buu in vantaggio, grazie ai ricordi di Kaioshin che prende ora il controllo del corpo del Majin. Il grande Kaioshin attacca così Moro e tutto sembra andare appunto per il verso giusto, finché però il cielo non diventa nero. Cranberry ha trovato l'ultima sfera del drago. E con il primo desiderio ecco che Cranberry guarisce se stesso. Poi però Moro gli ordina telepaticamente di chiedere la restituzione dei suoi poteri magici. E così accade. Moro torna alla sua potenza di origine e si dirige da Cranberry, uccidendolo ed esprimendo infine il terzo desiderio. Raggiunto il suo obiettivo Moro quindi fugge nascondendo il suo ki, mentre grande Kaioshin cura Goku, Vegeta e i nameciani coinvolti nello scontro. Lo stregone nel frattempo si è spostato nella stratosfera del pianeta, pronto ad assorbirne l'energia vitale, tornando così ad essere il divoratore di pianeti come un tempo. Ma qui viene raggiunto da grande Kaioshin che ingaggia battaglia con l'aiuto di Merus, dato che i suoi poteri divini sono stati in parte ereditati da Kid Buu al momento della scissione avvenuta in Zeta. Kaioshin quindi non è alle sue massime forze e nemmeno col corpo e con le abilità di Buu può nulla davanti alla magia dell'avversario. Grazie all'aiuto di Merus però Moro viene rispedito su Neonamek, accolto da Goku e Vegeta pronti allo scontro. Peccato che qui Moro ricorda loro di aver espresso anche un terzo desiderio ed è qui infatti che arriva l'annuncio. Tutti i prigionieri della prigione galattica sono evasi e si sono diretti quindi verso Neonamek. Qui a così inizia un nuovo scontro che mette in difficoltà Goku, Vegeta e gli altri che sono costretti a ritirarsi, dando vita a mesi di duri allenamenti. Qui dunque Vegeta decide di andare per conto suo sul pianeta Yardrat che noi ben conosciamo, giusto? Esatto. È proprio il pianeta sul quale Goku ha imparato il teletrasporto istantaneo. Il tutto mentre Goku resta presso la pattuglia galattica convincendo Merus ad allenarlo per padroneggiare l'oltreistinto. C'è un qualcosa in questa figura misteriosa che non quadra infatti. I suoi movimenti sono troppo veloci per un umano o per un mortale? Non si sa. E non sembra insomma un normale pattugliatore galattico. Vegeta viene invece accolto dagli Yardratiani e accompagnato da Pibara, anziano del pianeta, che decide di allenare Vegeta insegnando lui nuove tecniche basate sul ki. Nel frattempo che i due Saiyan si allenano però anche sulla Terra arriva infine la minaccia di Moro attraverso i suoi sottoposti. La banda dei fratelli Macaren in ricognizione viene infatti catturata da Piccolo, Krinin e gli altri, ma questi vengono infine raggiunti da sottoposti ancora più potenti, tra cui un certo 7-3, in grado di copiare le abilità altrui, cosa che fa proprio con Piccolo. Sulla loro astronave Moro e il sottoposto Sagambo assistono così allo scontro, scontro che si conclude con la sconfitta dei guerrieri Z e con l'affermazione da parte degli invassori che tra due mesi di tempo torneranno sulla Terra insieme a Moro. Nel frattempo al palazzo di Zeno Whis incontra il gran sacerdote ed è qui che entriamo a conoscenza non solo delle leggi angeliche, ma anche della vera identità di Merus. Il gran sacerdote rivela qui infatti che gli angeli, proprio in virtù di queste leggi angeliche, non possono intervenire negli eventi dei mortali in generale, ma devono rimanere neutrali, altrimenti andranno incontro a cancellazione dall'esistenza. E qui i due sono preoccupati quindi proprio per Merus, un angelo in allenamento tra i mortali, che si sta facendo trainare troppo proprio dalla questione di Moro nel settimo universo. L'allenamento con Goku, che è ora ben conscio di avere solo due mesi terrestri per perfezionare l'ultraestinto, continua quindi giorno dopo giorno, così come quello di Vegeta, che sconfigge facilmente gli invasori su Yardrat, arrivando anche lui a conoscenza del fatto che il prossimo obiettivo di Moro sarà proprio la Terra. Vedendo la situazione in atto con Merus, però Whis interviene rivelando la verità a Goku sull'identità del compagno di allenamenti e portando con sé Merus sul pianeta di Beerus. Peccato che i due mesi sono ormai trascorsi. Mentre Goku inizia il suo viaggio di ritorno verso la Terra, ecco che il pianeta viene quindi raggiunto prima da Moro e poi dai suoi sottoposti, che iniziano così lo scontro con i guerrieri Z. Tanti scontri, in realtà che in virtù del fatto che questo video sia un riassunto raga, saltiamo a pie pari, visto che a mio avviso sono abbastanza noiosetti. Diciamo che si salvano solo le azioni di Goku e Piccolo dai. Goku dunque, grazie all'aiuto di Krilin, arriva sulla Terra sconfiggendo gli evasi, utilizzando anche l'ultraestinto incompleto contro Sagambo, dimostrando così di poterlo attivare ora anche a piacimento, e arrivando infine davanti a Moro. Qui a così inizio lo scontro tra i due, e Goku, usando l'ultraestinto incompleto, mette a dura prova lo stregone, dato che ora non può assorbire energia vera e propria, peccato che nonostante ciò la tecnica dell'ultraestinto sia ancora difficilissima da gestire, e Goku deve presto infatti alternarla con il Super Saiyan Blue, trovandosi così molto presto nuovamente in difficoltà. È qui però che Vegeta raggiunge la Terra raga con il teletrasporto, sorprendendo tutti e rassicurando Goku che non userà mai più tale tecnica, dato che non è la sua tecnica rappresentativa, no? Vegeta attacca così Moro, ma tali colpi non arrecano un danno vero e proprio, bensì servono a far perdere l'energia vitale assorbita dal nemico in una sorta di Genkidama inversa, che restituisce l'energia vitale ai rispettivi proprietari. Siamo di fronte alla Spirit Fission di Vegeta. Moro qui cerca dunque di scappare, ma ecco che, per sua fortuna, si trova davanti proprio 7-3, che assorbe assimilando, ecco no, la sua abilità di copiare abilità altrui. Siamo quindi di fronte alla nuova forma finale di Moro. Moro che riesce qui dunque a mettere momentaneamente K o Vegeta, usando contro di lui proprio il Big Bang Attack, mentre Goku si tuffa nuovamente nello scontro, venendo però trafitto in petto. Goku dunque cade a terra, perde i sensi completamente e vedendo questo scenario di morte, Merus decide di arrivare sulla terra, dimostrando di riuscire facilmente ad annullare ogni magia dello stregone e mentre tende cura i feriti, è proprio Merus ad iniziare lo scontro con Moro. L'angelo inizia qui dunque a combattere seriamente contro Moro, affermando che si trova lì per finire l'addestramento di Goku e anche Beerus e Whis raggiungono la terra per assistere allo scontro. Goku ripreso si cerca di entrare in battaglia, ma è tutto inutile anche con l'ultraistinto incompleto. Serve un qualcosa, stando alle parole di Merus, che riesca a portare Goku ancora più in là. Lui si è unito alla pattuglia galattica e ha così facendo iniziato a provare un sentimento di vera giustizia. Con un ultimo pugno, Merus spezza così la gemma sulla fronte di Moro, svanendo dopo ciò e chiedendo a Goku nei suoi ultimi momenti di proteggere la galassia e l'universo. Goku, preso dalla rabbia e dalla frustrazione nell'essere stato salvato per poi perdere un amico, riesce così ad attivare ora l'ultraistinto completo, sovrastando del tutto Moro finché questo non arriva a chiedere pietà. Goku quindi si strappa la tuta della pattuglia galattica e afferma che da ora combatterà da terrestre, dando un'ultima possibilità all'avversario, dandogli un senzu a patto che questo torni nel carcere galattico. Moro torna così in forze, ma non mantiene, ovviamente, la promessa, attaccando Goku che però continua a sovrastarlo, finché la fame di potere di Moro non diventa la sua stessa fine. Lo stregone vede infatti a terra la mano che gli aveva staccato Merus precedentemente, acquisendo così le tecniche dell'angelo. Peccato però che in quanto mortale, Moro, raga, non riesca a gestire quel potere, deformandosi fino a diventare un tutt'uno con la terra, iniziando ad assorbire l'energia di tutti gli esseri viventi. Whis riceve però qui la chiamata del gran sacerdote, è chiamato in udienza, e prima di andare via, l'angelo si dirige da Goku, consigliandogli, così di distruggere il cristallo sulla fronte di Moro. Grazie alla Spirit Fission di Vegeta, che rientra qui in Nijoko, il cristallo torna così nuovamente visibile, ma Goku ha finito le energie e la terra sta per esplodere. Tutto sembra quindi perduto, finché però ecco arrivare un'incredibile onda di energia proprio da Ub, che il gran Kaioshin aveva raggiunto pochi minuti prima. Goku quindi ricompare davanti al nemico con quella che io chiamo, scherzosamente, la forma Susanoo dell'ultraistinto, distruggendo così il cristallo sulla fronte di Moro e liberando la terra e la galassia tutta dalla minaccia del divoratore dei pianeti. A seguito della battaglia con le sfere di Neonamek, vengono così riportati in vita tutti questi pianeti distrutti, mentre al quartier generale della pattuglia galattica, Vegeta e Goku vengono ringraziati dai presenti, Merus incluso, riportato in vita sotto richiesta di Shin, ma senza poteri angelici. Tutto sembra quindi tornato alla normalità, ma qualcosa si muove ancora sulla terra e nell'universo qualcuno si mette in moto. La saga di Granola e il sopravvissuto inizia subito dopo gli eventi di Moro. Nel cratere lasciato dalla disintegrazione dello stregone, ecco infatti riapparire la testa di 7-3, che però viene presto prelevata da due alieni e portata via nelle profondità dell'universo. Misi dopo all'interno di una navicella spaziale, ecco dunque 7-3 che non solo sta venendo pian piano rigenerato, ma assistiamo anche alla sua clonazione. Peccato che il veivolo sia inseguito da lui. Granola, che fa irruzione nella nave paralizzando i cloni e possessandosi del vero corpo di 7-3. Ed è durante il viaggio di ritorno che conosciamo a pezzi il passato di questo nuovo personaggio. Granola infatti si addormenta iniziando un lungo sogno che lo riporta al suo passato. Il suo pianeta natale fu infatti sterminato dalla furia dei Saiyan trasformati in Ozaru che devastarono qualsiasi cosa. Freezer e i Saiyan non ci sono più però, stando ovviamente a quelle che sono le informazioni in suo possesso. Perché allora continua a fare quel sogno? Nel frattempo, sul pianeta di Virus, Goku e Vegeta continuano i loro allenamenti, ma il pesce oracolo non riesce a dormire e questo è sintomo di un brutto presagio il più forte dell'universo sta per apparire. Comunque, in ogni caso, questa è la parte più importante per il futuro di ciò che sarà tutto Dragon Ball Super. Goku attiva qui infatti l'ultra istinto perfezionato e Whis gli consiglia, in quanto essere mortale, di rinunciare a cercare di padroneggiare la tecnica come fanno gli angeli. Quanto più, ecco raga, Goku deve trovare la sua vera forma. E il senso di queste parole lo scopriremo sul finale della saga stessa. Nel mentre, Vegeta è intento a guardare l'allenamento di Goku, capendo che l'ultra istinto mai si adatterà alla sua persona e che perciò supererà Kakarot a modo suo. E sentendo ciò, Beerus lo invita quindi a guardare il suo allenamento per scoprire qualcosa di più sulle tecniche delle divinità della distruzione. Nel frattempo, Granola arriva davanti ad un'organizzazione criminale chiamata Heater al cui capo figura un certo Elec al quale viene consegnato proprio 7-3. Granola infatti non è altro che un cacciatore di taglie. Elec dunque lo ripaga con abbondante denaro e con un'informazione di vitale importanza. Finora gli Heater hanno infatti agito indisturbati ma Freezer è tornato in vita e può ora metter loro i bastoni tra le ruote. Granola è ovviamente sotto shock. il tiranno che ha ordinato la distruzione del suo pianeta e della sua razza dei cerialiani è ancora in vita è tornato in vita Granola vuole quindi ora vendicarsi. Il ragazzo viene però bloccato e fatto calmare e dopo essersene andato Elec rivela in realtà di voler usare Freezer per sbarazzarsi del cacciatore la cui forza è già abbastanza grande da costituire un pericolo non da poco e infatti lo vediamo adesso combattere dando sfoggio delle sue abilità mentre scopriamo che la sua mira è infallibile grazie alla precisione del suo occhio destro Beerus continua nel frattempo a mostrare a Vegeta le sue tecniche cercando di fargli capire come ottenere il potere degli dei della distruzione rivelando che in passato fu lui stesso suggerire a Freezer di eliminare i Saiyan e qui i dubbi di Vegeta nati proprio durante la saga di Moro iniziano a farsi ancora più grandi ma Beerus lo rassicura dicendo che ciò che deve fare il Saiyan adesso è accettare il suo passato liberarsi dei fardelli che si è portato finora e costruire un nuovo se stesso intanto gli Eater visualizzando la memoria di 7-3 scoprono l'esistenza delle sfere del drago e Granola torna a casa sul suo pianeta Serial dove viene accolto da Monaito un anziano Namecciano Granola spiega a lui dunque di volersi vendicare e di voler usare le sfere del drago di Serial per diventare ancora più forte e così accade prese entrambe le sfere Granola evoca il drago Torombo desiderando di diventare il più forte dell'universo Torombo spiega qui a Granola che può farlo sì certo rinunciando però ai 150 anni di vita che lo aspettano tutta la forza e l'energia di questi anni verrà raggruppata per un breve lasso di 3 anni Granola però è intenzionato a trovare Freezer e a vendicarsi accettando quindi le condizioni e dirigendosi da Elec sconfiggendo Oil e Maki senza difficoltà mentre il capo giura di dirgli dove si trova Freezer non appena entrerà in possesso di tale informazione spaventato però dalla nuova potenza di Granola Elec pensa così di usare Goku e Vegeta per sbarazzarsi del ragazzo e così accade i due Saiyan si stanno infatti allenando ancora con Whis e Beerus quando vengono chiamati da Cici e Bulma contattate a loro volta da Oil e Maki i due dicono che questo Granola è ora il più forte dell'universo e che ha distrutto la vita di numerosi innocenti Goku e Vegeta volendosi quindi confrontare con qualcuno di ancora più forte accettano mentre dall'altro lato a Granola viene detto che due soldati di Freezer superstiti della razza Saiyan si stanno avvicinando a Sireal insomma un piano niente male Goku e Vegeta arrivati su Sireal vengono così subito sorpresi dai colpi energetici estremamente precisi di Granola che provengono da lontano dopo aver trovato il Cerealiano hanno così inizio i veri primi e propri scontri con Goku che mostra il Super Saiyan God alternato con l'ultraistinto venendo però raggiunto dai colpi dell'avversario Granola vuole sapere la posizione del loro capo vuole sapere la posizione di Freezer ma Goku non ha idea di cosa stia parlando Goku arriva così ad attivare il Super Saiyan Blu mentre Granola si carica di Ki fiondandosi verso l'avversario e mentre Vegeta capisce tutto Granola è un supersite della razza dei Cerealiani e per questo vuole vendicarsi anche con i Saiyan con l'ultraistinto completo Goku riesce così a mettere Granola K.O. una prima volta cercando di convincerlo che la vendetta non porterà da nessuna parte peccato che quello contro qui stava combattendo altro non era che una copia un'illusione il vero Granola arriva così sul campo di battaglia colpendo Goku al cuore ed è Vegeta così ora a mettersi davanti all'avversario mostrando un nuovo potere lo scontro ha così inizio e Granola si dimostra incredibilmente superiore a Vegeta che però resiste arrivando a ridere quando viene colpito ripetutamente dall'avversario Granola ha desiderato la sua forza ma non ha mai avuto modo di migliorarsi e di sfruttarla in battaglia cosa che invece sta facendo lui migliorandosi di minuto in minuto durante lo scontro Vegeta sta ritrovando emozioni che non provava da anni è immerso nella battaglia non ha nessuno da proteggere o da salvare e ciò gli permette di scatenarsi mostrando una nuova trasformazione esclusiva l'ultraego fiamme iniziano così a circondare il Saiyan i cui muscoli si ingrossano e i cui capelli diventano viola un potere nato puramente dall'istinto non ha limiti non servono desideri Vegeta attacca così Granola spostandosi verso le rovine della città mentre l'avversario chiede il perché il Saiyan ha incassato colpi invece di schivarli come faceva Goku e Vegeta risponde qui dunque che l'ultraistinto di Goku non ha nulla a che fare con lui Goku combatte per istinto e si difende ma Vegeta sta combattendo con l'ego in una trasformazione da lui creata e che il Saiyan stesso arriva a definire ultra ego Monahito nel frattempo assiste allo scontro durante la battaglia Vegeta spiega a Granola che non sa cosa gli abbiano raccontato ma anche il pianeta Vegeta e la razza dei Saiyan sono stati distrutti da Freezer stesso Granola però riesce per la difficoltà dello scontro a risvegliare anche l'occhio sinistro mentre gli Heater arrivano sul pianeta per assistere alla battaglia e non solo perché uno dei vari sottoposti Gus ha in mano il radar cerca sfere dirigendosi alla ricerca di esse Vegeta come sempre viene quindi messo alle strette nonostante questa sua nuova forma che gli permette di aumentare la propria forza man mano che incassa colpi e che lo scontro avanza e Goku è costretto a tornare in azione dando al compagno il tempo di riprendersi e lo scontro tra Vegeta e Granola quindi riprende arrivando fino in una delle città abitate dai sugariani i nuovi abitanti di Cereal ma qui il cerealiano rivede il suo passato notando un piccolo sugariano tenuto stretto dalla madre Granola ricorda quindi la sua storia ricorda quando era stato lui ad essere tenuto così dalla mamma e decide perciò di spostarsi fuori città usando tutto il suo potere per uccidere Vegeta una volta e per tutte sia Vegeta che Granola sono quindi pronti a morire pur di vincere e Goku guarda inerme lo scontro ma per fortuna ecco arrivare Monahito che ci apre a nuove rivelazioni la vendetta non è la strada giusta anche perché 40 anni fa fu proprio un Saiyan a salvare lui e Granola un Saiyan di nome Bardak Monahito inizia così a raccontare gli eventi di 40 anni fa durante l'invasione dei Saiyan su Serial qui uno degli invasori decise infatti di salvare Granola sua madre e Monahito stesso Bardak salvò la loro vita e Goku nota il nameciano ne è la copia spiaccicata Vegeta afferma dunque che Bardak era il nome del padre di Goku e Granola si rende conto di aver combattuto finora contro il figlio di colui che in passato lo aveva salvato ma allora perché la madre non è sopravvissuta Monahito racconta dunque che all'epoca sul pianeta erano presenti anche gli Eater che volevano impossessarsi del pianeta per rivenderlo a discapito di Freezer i quattro stavano rigliando i dialoghi dei criminali ma il pianto di Granola li fece scoprire Bardak cerchò inutilmente quindi di simulare il rapimento di coloro che aveva invece salvato ma Alex sparò a Muesli la madre di Granola uccidendola per evitare altre vittime il Saiyan decise quindi di scappare inseguito però da Gas Gas che nel presente trova adesso le sfere del drago volente rosso di vendicarsi per quanto accadde proprio contro Bardak all'epoca Gas evoca quindi Torombo esprimendo lo stesso desiderio di Granola diventare il più forte dell'universo Granola nel frattempo scioccato da queste rivelazioni chiede a Monahito il perché allora gli abbia permesso di lavorare proprio con gli Eater e Vegeta chiede come andrò a finire la vicenda ma non c'è più tempo davanti a loro ecco infatti arrivare Gas che mette Kappa o Granola mentre Goku decide di occuparsi di lui nel frattempo che Vegeta recupererà l'altro Senzu in loro possesso dopo essersi ripreso a così inizio lo scontro tra i due più forti dell'universo uno scontro che sembra quasi essere un testa a testa tanto che solo l'intervento di Elek e Maki a far liberare il vero potenziale nascosto di Gas la loro razza però può perdere il controllo se si liberano troppo i propri istinti ma sì Elek è sicuro che Gas possa vincere la massa muscolare di quest'ultimo aumenta così a dismisura le sue pupille scompaiono e Gas totalmente fuori controllo si scaglia contro Granola Vegeta e Goku nel quale rivede però la somiglianza con Bardak entrando in uno stato di ancor più totale confusione Elek ricorda lui quindi quelle che furono le sue parole a seguito dello scontro con Bardak ovvero il fatto che non si sarebbe mai più fatto sconfiggere e qui raga dunque Gas riesce in quanto essere più forte dell'universo adesso a riprendere il controllo del suo stesso corpo e della sua mente Granola viene così mandato ufficialmente a tappeto distrutto da Gas ed eliminato da Elek mentre Vegeta dona la sua energia a Goku affinché questo possa continuare lo scontro usando il Super Saiyan Blue e l'Ultra istinto Goku riesce dunque a tenergli testa ma Gas si accorge che Monahito sta curando Granola e quindi Goku riesce a salvare all'ultimo i due iniziando una vera e propria gara di trasmissione istantanea con Gas cercando quindi di prendere tempo affinché Granola possa riprendersi Gas nota qui l'inganno forse un po' troppo tardi mentre Goku torna su Serial e l'improbabile team up ha quindi 20 minuti adesso prima che Gas li raggiunga nuovamente mentre Granola e Vegeta Monahito mostra quindi a Goku il vecchio scouter di Bardak e Hotmail intelligenza artificiale a supporto di Granola riesce ad estrapolarne l'audio devi sopravvivere sentendo queste parole e le voci che le pronunciano Goku ricorda quindi i suoi genitori e riacquisisce la memoria degli eventi accaduti prima che per l'appunto il piccolo Goku sbattesse la testa arrivando sulla terra il Saiyan è sotto shock ed è qui che scopriamo l'esito dello scontro tra Bardak e Gas durante il loro scontro di 40 anni fa Bardak iniziò infatti a trovarsi in difficoltà e vedendo ciò Monahito scelse di chiedere a Torombo di riportare il Saiyan sul suo pianeta natale ma Bardak rifiutò affermando che preferiva morire lì piuttosto che scappare da vigliacco e perciò decise anche di cambiare il desiderio Bardak chiese che suo figlio potesse crescere diventando grande e forte a questo punto dunque Bardak in un qualche modo gestendo alla perfezione le proprie chi riuscì a mettere K.O. l'avversario recuperato poi da Elec prima dell'arrivo di Freezer su Serial al termine della registrazione audio e del racconto poi di Monahito Goku e Vegeta si guardano fieri della propria natura Saiyan capendo la quintessenza del proprio orgoglio ed è qui che lo scontro riprende con l'arrivo di Gas l'inizio dello scontro finale vede così Goku e Vegeta collaborare tra Ultraistinto completo e Ultraego con le tecniche della distruzione Vegeta decide per ora di occuparsi da solo dell'avversario il quale ha la meglio su ogni fronte di nuovo iniziando a teletrasportare Vegeta in lungo e in largo impedendogli di reagire ma dando il tempo a Goku di riflettere su se stesso e sulle parole di Whis in quanto mortale non potrà mai raggiungere il livello angelico dell'Ultraistinto ed è perciò che Goku salvando Vegeta mostra una nuova forma il vero Ultraistinto una forma incompleta di cui abbiamo parlato tra l'altro anche nel video delle forme dell'Ultraistinto se volete recuperarlo e qui ragazzi si arriva effettivamente ad un vero e proprio testa a testa con Gas vedendo il fratello messo all'angolo Elec interviene però nuovamente convincendo Gas a usare ancora più potere non ci saranno altre occasioni per uccidere Saiyan e superare Freezer devono agire adesso l'aspetto di Gas quindi invecchia notevolmente e Goku viene così attaccato a piena potenza venendo scaraventato via fino al ritorno di Granola Granola qui però colpisce Goku fingendo di essere ancora in cerca di vendetta e spiegando al Saiyan il suo piano mentre questi fanno finta di combattere Goku dunque torna da Gas affrontandola al meglio mentre Granola prepara un attacco a piena energia il Saiyan protegge qui il nuovo compagno svenendo però a causa della potenza dei colpi avversari ma venendo presto sostituito da Vegeta Granola termina così di caricarsi e Goku risvegliando la forma in Susanoo dell'ultraistinto blocca Gas scaraventandolo nell'atmosfera inseguito dall'attacco a massima potenza di Granola che crea una devastante esplosione Monahito dunque cura del tutto Vegeta Goku e Granola ma un raggio trafigge qui il Namecciano Gas in una forma pressoché scheletrica è tornato ed ingaggia nuovamente battaglia con Goku e Vegeta dimostrandosi notevolmente più potente dei due Gas però sta esaurendo tutta la sua energia vitale ma alla fine poco importa Elec lo convince a finirla qui ed ora sentendo ciò però Gas inizia a provare paura e si specchia nel pozzo d'acqua smettendo di combattere finché non sente una presenza atterrare alle sue spalle si tratta di Freezer e lo scontro tra i due ha qui inizio ma a Freezer basta un solo pugno per trafiggere Gas uccidendolo definitivamente Freezer sapeva infatti già ogni cosa e perciò elimina Elec sotto gli occhi allibiti di Goku e Vegeta che chiedono lui come abbia fatto a uccidere Gas dato che era l'essere più forte dell'universo e Freezer risponde qui che aveva passato molto tempo in un'altra dimensione simile alla stanza dello spirito e del tempo in modo da allenarsi per dieci anni al fine di raggiungere un nuovo livello di potere mostrando qui la sua nuova forma Black Freezer Goku e Vegeta vengono così messi facilmente K.O. dal nemico seppur fossero in modalità vero ultra istinto e ultra ego ecco che però ragazzi alla fine lo sappiamo Freezer decide di lasciarli stare per ora e di tornare sulla sua navicella insieme a Oil e Maki Goku e Vegeta si rialzano quindi andando dal defunto Monaito che però qui riapre gli occhi grazie all'intervento di Whis che voleva solo fare un favore ad un amico prima di andare via il nameciano regala quindi lo scouter di Bardak a Goku e i Saiyan tornano sul pianeta di Beerus con Whis chiedendo all'angero se fosse Black Freezer il guerriero più forte dell'universo profetizzato dal pesce oracolo ma Whis risponde che non lo sa o che il più forte potrebbe anche essere apparso da un'altra parte Goku e Vegeta faranno quindi bene ad allenarsi d'ora in poi in modo da farsi trovare pronti in vista di nuove minacce dopo la battaglia mortale contro Gas sul pianeta Serial Goku e Vegeta sono tornati sul pianeta di Virus dopo esser stati sconfitti da Black Freezer che sbucato dal nulla ha mostrato loro un immenso abisso di potere che li divide qui Goku e Vegeta inizieranno dunque il loro allenamento con l'obiettivo di sconfiggere ancora una volta il buon Freezer nel frattempo sulla terra Goten e Trunks con la volontà di imitare il loro supereroi dei videogiochi preferiti si danno all'attività supereroistica con i nomi e le uniformi di Siaman X1 e Siaman X2 sventando una rapina nei pressi di una gioielleria a West City arrestando così i criminali e riciclando la spazzatura prodotta insieme alle armi saliti sulla cima di un palazzo dove è presente proprio il cartellone di Klingod dei videogiochi i ragazzi si lamentano del fatto che non vi siano grandi cattivi da combattere in maniera figa e che in una società moderna come quella pacifica in cui vivono c'è sempre meno posto per i supereroi il discorso viene qui interrotto da Cici che chiama Goten a casa il fatto che i due stiano intraprendendo la strada dei supereroi è infatti un segreto noto solo ai due ragazzi Goten si cambia quindi in fretta chiedendo a Trunks un nuovo costume che si possa indossare in maniera istantanea e Trunks invece si imbatte nei nonni sulla via di casa i quali vengono però poco dopo travolti dalla fuga dei loro robot aiutanti impazziti del tutto mentre alle loro spalle si pone un vero e proprio zombie il giorno dopo alla capsule Corporation Trunks ottiene da Pilaf il primo costume istantaneo e chieda mai di chattare insieme e più tardi è infatti palesemente innamorato della ragazza ma è anche in ritardo per la scuola nei corridoi della Blue Hole High School durante l'intervallo Trunks viene invitato a esplorare il palazzo abbandonato di Monte Butterfly dove si dovrebbero anidare alcuni fantasmi insomma una classica sfida tra adolescenti che ovviamente il Saiyan rifiuta categoricamente in quanto completo fifone tornati a casa da scuola Goten e Trunks giocano al gioco di Klingod e il ragazzo dai capelli bloastri afferma di aver preso due biglietti per il film del videogame in modo da andare però con Mai la quale liquida malamente il ragazzo in quanto tutti i robot aiutanti della capsule Corp sono rotti o completamente impazziti i robot non obbediscono al loro creatore e fuggono dalle zone assegnate verso un unico luogo luogo dove è stato avvistato anche uno strano individuo e si tratta proprio del vecchio palazzo abbandonato di Monte Butterfly la missione per i due superiore quindi è ora a fermare questo losco individuo sulla strada verso l'abitazione i due Saiyan si imbattono proprio in uno zombie che inizia a manomettere i robot che trova sulla strada e seguendolo raggiungono in un battibaleno la casa spettrale pensando al super appuntamento con Mai Trunks supera così la paura dei fantasmi ed entra in azione come il Saiyaman X1 l'interno dell'abitazione è stato infatti trasformato in un laboratorio di sushi insomma sushi da rivendere a prezzi scontati ma gli zombie hanno scoperto i compagni di scuola di Trunks in questo momento che stavano esplorando l'edificio Saiyaman X1 riesce così a sconfiggere senza problemi tutti gli zombie trasformandosi anche in Super Saiyan dopo la fuga degli amici esplorando il laboratorio Goden e Trunks trovano qui una cassaforte contenente un file disk confidenziale appartenente a Dottor Gero usciti dalla struttura i due incontrano Krillin che sta cercando gli zombie avvistati in zona mentre Dottor Hedo nipote di Gero trova gli zombie sconfitti e la memoria esterna scomparsa Ciao ragazzi io sono Marra forse mi conoscete meglio per Mera Mera o Redoc i miei due progetti che porto qui su YouTube sono felice di essere qua in questo riassunto della saga più piccola della storia di Dragon Ball e forse dei manga in generale io mi occupo del capitolo 89 il capitolo inizia facendoci vedere Trunks che prova a vedere cosa c'è dentro il disco che ha rubato nello scorso capitolo riesce a inserire il disco in uno dei computer di sua madre e si apre un file molto interessante perché quello che vediamo è il progetto di una creatura sconosciuta a Trunks mentre invece per qualsiasi lettore di Dragon Ball e anche amante dell'anime in realtà quella creatura che si vede in schermo è qualcosa di molto molto familiare perché è palesemente la larva tra molte virgolette lo stadio primario di Cell quindi praticamente quella cosa che vede è la larva non di Cell ma di Cell Max questo lo possiamo dire tranquillamente dopo un po' che vede questa immagine sembra che un virus si scarichi all'interno del computer di Bulma cosa che lo spaventa e non poco anche perché arriva proprio sua madre un po' incavolata perché da quello che dice Trunks ha preso tantissimi pregi del padre ma nessuno dalla parte della madre comunque Trunks deve tornare a scuola un luogo che vediamo spesso e volentieri in questa saga qua e deve andarci questa volta però con Mai o Mei come volete chiamarla voi in italiano so che viene doppiata Mei io la chiamo sempre Mai perché in giapponese la chiamano così comunque i due vanno a scuola la ragazza suscita moltissimo interesse soprattutto nei ragazzi che frequentano la scuola e Trunks si vede che è un pochettino geloso comunque una particolarità di Mei interessante perché in realtà in Dragon Ball Super in poi non è che approfondiamo più tanto il suo personaggio che è molto seria sembra già molto molto matura non è l'unica nuova studentessa che arriva nella scuola perché arriva anche un nuovo studente maschio questo invece suscita un po' l'interesse delle ragazze che sono nella classe che si chiama Beta questo studente è un po' strano ok che suscita anche un pochino di sospetti in Trunks e lo vediamo subito dopo in una scena che vede Trunks impegnato nello sport in particolare nel basket scena che è stata molto memata perché Trunks viene battuto in una partita di basket proprio contro questo Beta che lo batte nonostante Trunks utilizzi parte del suo potere per correre un pochettino più veloce e la velocità di Trunks tra l'altro insospettisce moltissimo questo nuovo personaggio che è appena stato visto un personaggio che viene inquadrato anche da Mike che è la più sveglia sicuramente di quella scuola da quello che vediamo effettivamente il dottor Hido che poi è anche il dottore che è a gamma 1 gamma 2 e Cell Max è alla ricerca del ladro che ha rubato il suo disco e a quanto pare riesce a vedere il tutto tramite gli occhi di questo nuovo personaggio di questo nuovo studente che scopriamo essere una sottospecie di androide Hido sta dando la caccia al ladro ma in realtà i suoi zombie che hanno assicuito al furto non hanno assolutamente idea di come sia fatto perché da quello che ci dice il dottor Hido ha risparmiato un bel po' nel cervello e non ha neanche una telecamera nel laboratorio comunque beta numero 1 sta per lasciar cadere un oggetto contro sia Trunks che Mai però viene distratto da una cosa che succede nella scuola al di fuori della loro faccenda difatti una pallina da tennis finisce sotto un camion e questo camion viene sollevato con una facilità incredibile da Goten che si presenta lì completamente a casa giusto per recuperare la palla la forza di Goten spaventa tutti beta numero 1 compreso e quindi cambia il suo obiettivo la Trunks l'obiettivo diventa Goten qua vediamo che anche beta numero 1 ha una trasformazione tra virgolette trasformazione non è ragazzi che trasformazione che vi aspettate voi di Dragon Ball è semplicemente un costume che è simile poi tra l'altro a quello che ha presentato Trunks nello scorso capitolo comunque Trunks assistendo alla scena lascia la sua borsa Mai e si dirige verso il bagno almeno così dice torna ovviamente vestito da Saiyaman col suo costume che già avevamo visto e blocca beta numero 1 salvando tra virgolette Goten che secondo me poteva cavarsela benissimo da solo comunque inizia lo scontro tra Trunks e beta numero 1 il combattimento è carino è anche abbastanza lungo e Mai si rende conto che quel Saiyaman gli ricorda qualcuno comunque non è finito qui il combattimento perché beta numero 1 utilizza la sua cintura e crea dal nulla beta numero 2 che che cos'è è praticamente un'armatura robot che ha un sacco di missile delle armi incredibili comunque Trunks sfoggia tutte le sue abilità per lui ovviamente un robot del genere non è assolutamente niente mentre combattono però Mai cade e dalla borsa che aveva in mano che era la borsa di Trunks cade anche il disco confidenziale del Dottor Giro comunque i due se ne vanno Trunks ritorna dalla sua compagna sta anche per svelare il suo segreto ma viene fermato da Gotenks che a quanto pare non vuole assolutamente che il segreto si sappia in giro neanche a qualcuno che abita insieme a lui in realtà il capitolo finisce con il Dottor Ido che è un po' nervoso per quello che è successo è arrabbiatissimo vuole assolutamente recuperare il suo disco però una cosa è positiva almeno per lui gli piacciono i costumi dei due Saiyan è anche molto a quanto pare di fatti il capitolo si conclude dicendo che deve creare dei nuovi androidi senza badare a spese questa volta non come ha fatto con gli zombie e vuole ispirarsi per prima cosa al mantello al mantello rosso del Saiyaman 2 il Saiyaman 2 sarebbe Goten per intenderci cosa molto interessante perché se poi ci pensiamo Gamma 1 che è un personaggio che vediamo nel film Super Hero ha proprio un mantello rosso probabilmente ispirato proprio dal costume di Goten qualche giorno dopo Krillin inizia a cercare gli zombie per le vie della città mentre Goten si dirige a scuola venendo però braccato da beta numero 7 insomma in un qualche modo tali creature sanno esattamente sempre dove si trova nel frattempo a scuola Mai invita Trunks al ballo scolastico dove sarà presente come ospite d'onore Klingod ma in realtà scopriamo presto essere una scusa per attirare in quel luogo Dottor Hedo mentre Mai e Trunks parlano ecco però che una coccinella robot li segue da lontano trasmettendo le loro parole direttamente a Dottor Hedo che casca quindi nella trappola al ballo scolastico dunque Mai entra vestita da eroe mentre Trunks corre sotto le transene del palco mettendosi a parlare proprio con Dottor Hedo i due si mettono a parlare Trunks non riconosce lo scienziato ma Mai si e cerca di catturarlo ma viene fermata da beta 1 Edo riesce a scappare con il disco esterno che tanto stava cercando ma Krillin Goten e Trunks lo inseguono fino al suo laboratorio nelle montagne e qui avviene la battaglia contro il Dino Android numero 1 che viene poi sconfitto in realtà anche molto facilmente come in Attack on Titan con un colpo alla nuca e poi squartato da Goten e Trunks trasformati in Super Saiyan Edo viene quindi arrestato per furto di corpi all'obitorio e all'interno del disco scopriamo in realtà esserci una sua foto con Klingod autografata tutti i dati contenuti all'interno del disco li ha già infatti memorizzati nel suo cervello praticamente li sa a memoria ciò che gli importava veramente e che teneva in cassaforte era proprio la sua foto con Klingod autografata contagiata dalla voglia di diventare anche lei un superhero la piccola Pan inizia così a venire allenata da piccolo nel doposcuola e passano tre mesi da questi primi eventi prima del rilascio dalla prigione proprio di Dottor Edo il quale viene qui prelevato da Magente Carmine che in auto lo ingaggiano ad entrare nell'esercito del neonato Fiocco Rosso al fine di creare un nuovo androide il più forte di sempre Edo qui accetta in cambio dell'ingente quantità di denaro e inizia quindi a mettersi al lavoro iniziando con l'eliminare la prima minaccia che si pone sulla loro strada Krilin che stava infatti seguendo l'automobile per scoprire la posizione del covo del Fiocco Rosso arginata questa prima minaccia se così voglian chiamarla passano quindi sei mesi di pura tranquillità sulla terra sei mesi nei quali Pan continua ad allenarsi sebbene ancora non abbia imparato a volare mentre piccolo continua ad andarla a prendere all'asilo in quanto Videle e Gohan sono troppo impegnati con il proprio lavoro e con lo studio piccolo però lo sappiamo non riesce a tenere dentro ciò che pensa e perciò vedendo la situazione consiglia Gohan almeno di continuare ad allenarsi e di non concentrarsi solo ed esclusivamente sullo studio il male in fondo potrebbe presentarsi alla porta in ogni momento e infatti ecco che nei giorni successivi il male infine arriva davvero durante uno dei suoi addestramenti personali piccolo viene attaccato da un misterioso aggressore un certo Gamma 2 androide del fiocco rosso la potenza dell'avversario è così elevata che piccolo è costretto di fatto a simulare la sua morte inseguendo poi il nemico fino alla base del fiocco rosso stesso qui il nameciano ruba così un uniforme e si infiltra facendosi strada fino alla sala di controllo dove Magenta Carmine Edo e i due Gamma stanno tenendo una riunione Gamma 2 infatti non si è assicurato che piccolo fosse davvero morto e questo potrebbe quindi compromettere i loro piani motivo per cui ora Edo è costretto a procedere più in fretta per completare il suo lavoro su Cell Max una creatura incompleta un android dal potenziale mai visto prima e percependo questo pericolo in arrivo piccolo avvisa quindi Bulma che conferma l'assenza dalla terra di Goku e Vegeta che se vi ricordate stavano andando nuovamente ora ad allenarsi sul pianeta di Beerus infine dopo aver preso due Senzu piccolo decide quindi di dirigersi verso Dende affinché questo possa guidarlo per ottenere una sorta di risveglio per ottenere nuovi poteri Bulma nel frattempo volenterosa di avvertire Goku e Vegeta chiama quindi Whis il quale perde però la chiamata in quanto troppo intento a vedere lo scontro tra Goku e Broly mentre Vegeta medita aprendoci a nuove strade per il futuro i loro corpi ormai sono perfetti ciò che bisogna allenare è la mente da ora in poi Whis si congratola qui con Vegeta mentre gli altri iniziano a mangiare il gelato continuando ad assistere all'allenamento tra Saiyan tornati sulla terra Dende potenzia le sfere del drago e Piccolo così esprime un desiderio chiedendo a Sharon di sbloccare il suo potenziale latente mentre gli altri desideri vengono usati da Bulma per richiedere modifiche estetiche il tutto sotto gli occhi di Goten e Trunks che sentono l'odore di nuove avventure per i supereroi all'orizzonte nel frattempo Magenta decide di affrettare ancora di più il piano di perfezionamento di Cell Max cercando prima di eliminare le minacce che potrebbero porsi davanti al loro obiettivo di conquista mondiale il gruppo di alieni in grado di trasformarsi e che all'epoca sconfissero l'android chiamato Cell sapendo che Gohan ha una figlia Carmine e Magenta decidono così di rapire Pan incaricando il soldato numero 15 e Piccolo sotto copertura del rapimento Piccolo spiega dunque il piano a Pan che starà al gioco per attirare suo padre presso il quartier generale del fiocco rosso perché non finire subito questa storia prima che la faccenda di Cell Max si faccia troppo pericolosa in fondo no? dopo averlo attirato al quartier generale ecco che Gohan ingaggia a scontro con gli androidi gamma 1 e gamma 2 la cui forza sembra oscillare tra quella che Goku e Vegeta avevano tra la saga di Majin Buu e quella di Moro un range molto alto me ne rendo conto ma raga ma che volete da me con sti livelli di potenza ormai non si capisce più una mazza veramente teniamocela buona Gohan arriva quindi a combattere nello stato ultimate o potenziale sbloccato mentre Piccolo messo alle strette sblocca la sua nuova forma Orange Piccolo fa qui ufficialmente il suo incredibile debutto durante lo scontro però sia gli androidi che i nostri eroi si accorgono che stanno combattendo senza un motivo sensato e anzi Piccolo arriva persino a dire che in realtà i Gamma sono pure bravi android sono bravi guaglioni ma stanno solo eseguendo stupidi ordini le informazioni date da Magenta sul loro conto infatti sono false e i due Gamma si accorgono di chi è il vero nemico quando Carmine spara verso Pan una bambina certo che però mette KO l'avversario mentre Magenta scappa nel sottosuolo della base seguito da Edo qui Magenta si sta infatti preparando ad attivare Cell Max nonostante la sua incompletezza cosa che alla fine riesce a fare nei suoi ultimi momenti la battaglia sembra quindi essere finita sopra i malintesi sono stati risolti ma la terra inizia a tremare e sotto la base un'esplosione determina la sua comparsa ecco che Cell Max arriva sul campo di battaglia ingaggiando scontro l'androide contro il quale stanno iniziando a combattere però è come un mostro impazzito che non esegue ordini o segue direttive è una macchina da guerra incontrollabile che mette tutti in estrema difficoltà in loro soccorso ecco però giungere anche Gohan e Trunks che dopo una posa da veri supereroi effettuata insieme a Gamma si fiondano in battaglia ma potendo poco e nulla ecco che i due ricorrono persino alla loro arma segreta arrivando a fondersi in Gotenks Fat Gotenks che viene quindi velocemente messo alle strette ecco quindi unirsi alla battaglia dunque anche Krilin e C-18 mentre Edo rivela che il punto debole del mostro che hanno di fronte altro non è che la sommità della testa distruggendola si genererà un'esplosione che cancellerà tutte le sue cellule una volta e per tutte Gamma 2 si sacrifica così per sferrare un colpo finale dall'alto ma nemmeno ciò può nulla nei confronti di un avversario così forte e Piccolo decide così di dare un senso a Gohan recuperato da Pan che impara qui a volare Gohan torna quindi in massima salute e sblocca la forma ultimate Piccolo inizia quindi a prendere tempo affinché Gohan possa caricare un attacco a piena potenza ma la visione dell'amico Nameciano che arriva vicino alla morte determina in Gohan il risveglio di un nuovo stato caratterizzato da pupille rosse lampi e lunghi capelli argentei abbiamo qui dunque la fine dello scontro con Gohan Beast con una coreografia eccezionale che porta infine Gohan a sconfiggere l'avversario mentre tutto il gruppo scappa poi per sfuggire all'esplosione forse nemmeno Goku e Vegeta ferma il ragazzo avrebbero potuto sconfiggere Cell Max facilmente il tutto mentre Gamma 2 si risolve tra le braccia di Edo il quale viene ora assunto da Bulma per lavorare nella capsule Corp dalle macerie del Red Ribbon ecco però fu riuscire Carmine insieme a soldato numero 15 nel frattempo sul pianeta di Virus assistiamo alla fine dello scontro in forma base tra Goku e Vegeta scontro durato giorni e che ha visto come vincitore proprio Vegeta per la prima volta dopo anni probabilmente stava aspettando questo momento dalla saga di Majin Bu giorni dopo a seguito dello scontro leggendario contro Cell Max Carmine e soldato numero 15 incontrano Goten e Trunks sotto le vesti di Siamen X1 e X2 proponendogli di scontrarsi contro un forte nemico poco distante da lì nemico che si rivela essere Gohan vedendo quindi Carmine e soldato numero 15 Gohan rilascia a comando il Beast attirando l'attenzione di Goku e Vegeta sul pianeta di Beerus Goku decide quindi di tornare sulla terra e di vedere cosa sta accadendo assistendo all'incredibile forza del figlio Goku propone così quindi di allenarsi insieme come i bei vecchi tempi da Beerus teletrasportandosi così sul pianeta con l'auto di Carmine e numero 15 e portando con sé anche Goten e Trunks ed eccoci quindi arrivare allo scontro finale di questa saga Goku ultra estinto perfezionato contro Gohan Beast chi è il più forte? ebbene lo scontro si conclude senza una risposta precisa dato che durante la battaglia ecco Goku si certo si rende conto della forza del figlio ma decide di passare la palla a Broly che riesce qui a sbloccare la trasformazione in Super Saiyan senza andare in Berserk senza perdere il controllo insomma vedendo l'epicità dello scontro in atto anche Goten e Trunks si lanciano in battaglia per affrontare quindi Broly seguiti a ruota da Goku e Vegeta che non vogliono certo tirarsi indietro da questo scontro tra Saiyan e il battle royale finisce quindi con un banchetto e con il ritorno di tutti sulla terra Goku arriva così da piccolo chiedendo di affrontarsi come ai vei vecchi tempi ma questo non può perché deve nuovamente andare a prendere Pan all'asilo ma Goku non ricorda chi Pan sia e per questo viene obbligato ad andarla a prendere anche lui Carmine infine decide di rinunciare a fondare per la terza volta il fiocco rosso e Goku raggiunge quindi l'asilo dove inizia una sfida di volo con Pan i due vengono prontamente seguiti da Gohan mentre piccolo si gira sorridendo e salutando l'insegnante della piccola e questa ragazzi era la saga che per ora chiude ufficialmente il manga di Dragon Ball il manga è infatti in pausa e non sappiamo quando tornerà siete soddisfatti delle vicende di cui abbiamo parlato oggi tra anime e manga mi raccomando fatemelo sapere qui sotto nei commenti e vi ricordo che su Amazon trovate tutti i volumi disponibili per l'acquisto vi lascio il link in descrizione alla prossima per la prossima e la prossima